A me sei un uomo, a me piace la strada, con i piedi, con i piedi, con i piedi, con i piedi, con le gambe, con il culo, è meglio, ciao, ciao. Spero che sia una stagione che ci può portare di nuovo a questa Serie B e che il Presidente si decida a cacciare questo allenatore e a prenderne uno nuovo che ci può portare in alto dove siamo sempre stati, dove siamo arrivati e poi siamo scesi clamorosamente, tragicamente. E a proposito di salire, salirai su queste giostre? Sì, certo, certo. Anzi, hanno detto pure che c'erano delle giostre nuove, ma le veniamo a testa, indagheremo. Come ci prepariamo a questa festa della Madonna? Come ci prepariamo? Aspettiamo la grazia, che tutto finisca bene. Con un buon panino, come si dice Fittù? È solito, è sempre. D'anzio Tonio? D'anzio Tonio. E forse Crotone? È sempre. E dopo due anni le giostre sono tornate, ma dalla Serie A oggi siamo in Serie C. E vabbè, vorrà dire che un altro anno ritorneremo in Serie B, però le giostre sono ritornate a Crotone e questo è l'importante, no? Ma con il pallino di arrivare in Serie A, subito, prima delta, subito. Come sono stati questi due anni di pandemia per i giostre? Tragica, tragica. Tristi. Tristi. Tristi, vabbè, tristi. Pensavo non parlassi italiano e invece mi ha sorpreso. Ma aiuti dal governo ve ne sono stati? Sì, dirlo. Sì, troppo. Il nostro aiuto era andare a lavorare sotto padrone. E dove siete? Pugliesi. Città? Provincia di Taranto, la terza. Forza Crotone? Sempre. Per i giostrei come sono andati questi due anni di pandemia? Tragici. Siamo stati fermi due anni, ognuno nei propri terreni, senza poter lavorare. E abbiamo attinto a pochi fonti che ce ne dovrebbero stare. E ora bentornati a Crotone. Speriamo che questa festa ci sia l'utile che aspettiamo da due anni, essere una delle migliori feste della provincia, della Calabria. Forza Crotone? Forza Crotone, speriamo che il tempo ci assista, più che altro. No. Un nuovo allenatore? Modesto non mi è piaciuto dall'inizio e infatti si è verificato quello che ha detto. Cosa diciamo al presidente Brenna? Che la scuola si deve riprendere. Vogliamo risalire subito? Eh, bisogna risalire subito. Bisogna risalire subito? Che non è facile, non è facile. Chi prenderebbe lei come allenatore? Il profilo? Un profilo di un allenatore affamato e competente. Perché la Serie C è molto, è dura. Abbiamo l'esperienza? L'abbiamo visto già. Noi siamo di Cropini, quindi facciamo la sponda fra Crotone e Catanzaro. E quindi è dura la C. È un campionato, è difficile salire dalla C, è molto difficile. Di questo sto dicendo, non bisognava scendere perché è molto difficile un terno all'ottolo. Deludente è stata l'annata e deludente è stata la partita. Diciamo che la prestazione è indescrivibile. Diciamo che i giocatori andare in campo per l'ennesima volta, a fare un'ennesima figura del genere, non c'è un minimo rispetto per i tifosi. L'allenatore non c'è niente da dire. Quello che ha fatto ha fatto, ha sbagliato. Anche lui dovrebbe incominciare a pensare. Il prossimo anno ripartiamo dalla C con una squadra forte. Bisogna ricominciare da zero di nuovo, quindi dalla Serie C. Sperare almeno di arrivare in B o in Serie A. Io ci spero in Serie A. Al precedente e a Modesto, io dico che hanno fatto quello che hanno voluto fare. È andata male, è andata come è andata. E niente. Ma noi ci saremo. E ci saremo sempre. Ma da Ciro che memorial vi sarà? Sarà un grande memorial, di cui fino adesso hanno aderito 20 società, hanno aderito di tutta la Calabria e pure qualcuno del centro-sud, diciamo. Come si chiama il memorial? Memorial Stranci, di Giuseppe Stranci. Quindi chi vuole può venire a Ciro Medina nei giorni? Nei giorni 21 e 22 maggio saremo aperti a tutta la Calabria. Questo finale. Di me Danilo, ce la faremo. Secondo me ci salviamo. Il fatto che ci salviamo, ragazzi giovani. Ecco, voi vi ricordate? Perrino Nistico, il nostro amico di Riggi Milo. È andata strana, fa niente, noi saremo sempre qua. Dalla provincia di Cosenza saremo sempre a Crotone. Anche l'anno prossimo in Lega Pro. Ciccio Modesto. Francesco. Perché oggi non l'hai fatta le sostituzioni? Perché stavamo perdendo. Perché stavamo perdendo e non l'hai fatta? Perché Gianni Pinotto non l'hai messa nello stadio, nel campuccio? Perché? Punto interrogativo. Che non ha comandato stanno? Ciccio Modesto. E che te che non ha comandato? Ma ti rendi conto che c'è... Adesso come si riparte? Come si riparte? Partiamo da zero di nuovo. In Castellammaro. Partiamo in Castellammare e andando a vedere. E per finire come si dice? Sempre Forza Crotone. E per finire come si dice? Sempre Forza Crotone. E per finire come si dice? Sempre Forza Crotone. E per finire come si dice? Sempre Forza Crotone e forza sempre Stella del Mare. E per finire come si dice? Forza Crotone. è stata una sconfitta però vinciamo sempre noi crotone se non era per festa che aveva fatto con la PAP avremmo pure pareggiato forza crotone e per finire come si dice? sempre forza crotone grazie